All'ordine del giorno della conferenza, anche in ragione dell'aumento dei casi di contagio, ha aggiunto il punto sulle valutazioni in ordine all'adozione di ulteriori misure per lo svolgimento delle attività economiche e sociali nelle diverse aree di rischio. Quasi tutti i presidenti delle regioni sarebbero d'accordo a misure differenti fra vaccinati e non. Quello che si ipotizza è un Green Pass a due velocità, con il vaccino che vale per tutto, con il tampone che può consentire solo lavoro ed attività essenziali. Insomma, un Green Pass rafforzato, in modo che le restrizioni previste, ancora tenue in giallo, ma pesanti già dall'arancione, non gravino su chi si è protetto con rigadute anche sull'economia e sul prossimo Natale. Anche il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, si dice d'accordo per un lockdown per i non vaccinati. Sarebbe il minimo, per quello che mi riguarda. Sarebbe il minimo. Cominciamo a capire qual è la ricaduta negativa degli atteggiamenti di irresponsabilità che abbiamo conosciuto in queste settimane. L'irresponsabilità di chi finge per scambiare per libertà democratica quella che nei paesi sicili si chiama irresponsabilità. Mi auguro ovviamente che tutti quanti, di fronte a questa quarta ondata, capiscano che il dovere di tutelare la salute dei cittadini è un dovere che appartiene a tutti quanti, non ad alcuni sì e ad altri no. Mi pare del tutto evidente che chi non si vaccina non può avere gli stessi diritti di chi ha deciso di vaccinarsi e ha dato prova di senso di responsabilità. Sull'ipotesi è intervenuto anche il sottosegretario della salute, Pierpaolo Sileri, che ipotizza in caso di aggravamento della situazione chiusure per i non vaccinati, ma dalla zona arancione. L'inaspiramento delle restrizioni non è la strategia da attuare con i numeri odierni, ha detto sempre Sileri. C'è qualche area del paese che rischia di finire in zona gialla, ma questa non prevede grosse restrizioni, quindi al momento non vi è motivo di fare restrizioni per i non vaccinati. va tenuta sul tavolo come tante altre opzioni, ma la situazione è sotto controllo.